Colleghiamoci con il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, l'onorevole Claudio Durigon. Sottosegretario, secondo lei in Italia c'è un problema di formazione quando si parla di inserimento nel mondo lavorativo? Oggettivamente mancano tantissime mansioni in Italia, non soltanto quelle meno reponerate. Credo che ci sia un tema di matching tra domande e offerta e credo di orientamento anche nella scuola. Questo è fondamentale per far sì che i ragazzi possano crescere con una formazione adeguata a quelle che sono le esigenze del territorio. Pensi, questa è la cosa più grave che oggi c'è in Italia, non esiste addirittura un servizio informatico lavoro in tutta Italia, ma bensì esistono regioni per regioni, quindi lasciamo le regioni da sole a cercare di reperire, di fare questo matching tra orientamento e organizzazione, appunto quello che servirebbe oggi per le nuove figure professionali. E poi, ancora di più, c'è un sistema che è cambiato totalmente, c'è il Covid, la guerra che stiamo vivendo, stanno cambiando vertigiosamente le nuove mansioni, quindi un lavoro che è in pieno fermento, in pieno cambiamento e noi dobbiamo adeguarci a far sì che la formazione che diamo ai nostri ragazzi, che diamo ai nostri lavoratori sia per esigenze effettive che noi vediamo oggi sul territorio. Grazie mille, grazie mille Sottosegretario Durigone.